Ci sono tutti i volti della Lollo Brigida nella mostra I Mondi di Gina fino all'8 ottobre all'Istituto Centrale per la Grafica di Roma. 120 fotografie che ritraggono l'attrice, la fotografa, la disegnatrice, la scultrice. E in esposizione ci sono gli abiti, i costumi di scena, i suoi gioielli, le copertine dei giornali a lei dedicati, le locandine dei film e molte altre testimonianze. La mostra è ideata e curata dal sottosegretario del MIC Lucia Borgonzoni e dalla presidente di Cinecittà Chiara Sbariggia che spiega. Intanto volevamo restituirle un po' il suo statuto di grande diva che si era un po' obfuscato negli ultimi anni con le trasmissioni televisive, le vicende giudiziarie eccetera che avevano prevalso sulla grandezza invece della donna e della diva. Abbiamo rappresentato in grande parte della mostra lei fotografa e la sua seconda vita ci sono le sculture che sono anche rappresentate in alcune foto, ci sono dei collage, c'è anche un po' della vita privata, la più bella di Gina, il periodo felice del suo primo matrimonio con il bambino. In mostra ci sono immagini che provengono soprattutto dall'archivio Luce Cinecittà e dal centro sperimentale di cinematografia ma anche foto di autori della Magnum. L'omaggio dedicato alla Lollo Brigida continuerà a Venezia come spiega il sottosegretario Borgonzoni. Ci sarà una mostra dove ci sarà sia lei che la Magnane, due donne che forse rappresentano il concetto di femminismo al massimo, perché tutte e due alla fine si sono fatte al sole, una in un mondo di donne bellissime ha preferito mandare avanti non la sua bellezza ma il suo saper fare arte, la Magnane e dall'altra parte una donna che senza l'aiuto di nessuno ha deciso di conquistare il mondo e ha conquistato il mondo. In più presenteremo un premio a Venezia che sarà un premio intitolato a lei che è per sempre.